buongiorno cuneo buongiorno granda buongiorno martedì buongiorno al martedì siamo al 31 di gennaio mamma mia volato se ne ito e si ito 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 salutiamo anche ito e vabbè salutiamo ciao beppe ha dormito male in beppe questa mattina era sempre sveglio ma io anche non ho girato nella paglia bene bene che si vede che c'era impagliato non lo so ci avrà appunto qualcosa stanotte non si è dormito e vabbè pazienza pazienza dormiremo un'altra volta sì veramente comunque parliamo di un viaggiatore del tempo perché c'è un signore che sostiene di essere un viaggiatore del tempo poi vi spiego meglio boh è convinto alla macchina del tempo esatto quella di coso la come si ritorno al futuro bravo non mi veniva ok poi le domande del signor amazon per assumere dipendenti c'è un sacco di gente che vuole lavorare per amazon poi oltre i 500 euro al mese allora no eh guarda no no poi vedremo pare che sia un tipo molto sbrigativo il signor amazon hai capito ti liquido il pacco no dai è uno che fa i pacchi poi poi sei brava a fare i pacchi guarda io sono bravissima a riceverli in compenso allora il 50 per cento degli adulti ha interrotto una relazione a causa di un difetto sì di fabbrica andremo a vedere alcuni alcuni perché tu non hai idea ce ne sono un sacco di difetti che portano alla rottura di una relazione ma difetti stupidi è qualcuno qualcuno no ma qualcuno è proprio stupido la luce valgo sì certo perché io valgo come si dice no l'ernia l'ernia del discolo sono i ragazzi di busca che stanno facendo le docce stanno facendo la doccia i ragazzi di busca vabbè noi li salutiamo cioè speriamo di non disturbarli mentre si fanno la doccia va bene il viaggiatore del tempo stavamo dicendo l'importante che sono il becchino nella doccia sì no insomma non credo che a terra nella doccia sia la sua più massima aspirazione arrivare nella doccia dei ragazzi di busca comunque si chiama e no ala ala rick ala rick vabbè chiamatelo come vi pare comunque va bene sostiene sostiene di essere un viaggiatore del tempo dell'anno 2671 niente meno ha affermato pensate che 8.000 persone saranno scelte per essere i salvatori della terra in quanto il pianeta è sull'orlo della distruzione anche questa è una persona molto ottimista benissimo questo signore comunque sparando ste cose qua ha guadagnato oltre 26.000 follower per aver postato avvenimenti sui presunti eventi futuri ha già lanciato delle profezie su pianeti gemelli con la terra visitatori alieni persino sull'apertura di portali verso altre dimensioni i famosi stargate i portali i portali i portali i portali come dicevamo in un filmato che ha ottenuto più di 30 che potete vedere in questo momento esatto che ha ottenuto più di 39.000 mi piace ha annunciato questo reclutamento per salvare il pianeta è partito è partito ecco a salvarlo sarà il campione sai chi è il campione salvatore si chiama salvatore il campione salvatore il campione no secondo questo fenomeno sto signore qua che che viaggia nel tempo il campione sarebbe un alieno che porterà alcune persone su un altro pianeta abitabile a quel punto sempre il campione perché lui che decide tutto sceglierà le persone migliori che manterranno tutti in vita a capitanarlo che è arrivato io ho già pronto un pacchetto di 7 e mezzo di cunesi si forse tu non hai capito da portare il campione no a noi non ce ne deve fregare niente ha detto che sceglie le persone migliori paolo ma è che ci frega a noi figurati se viene qua e prende noi magari ti piace i cunesi ma non ce credo ma ti prego magari piace la cunesi questo qua per farsi vedere da uno bravo te lo dico io te lo dico io ah i modà saranno a sanremo bene e faranno con un'altra canzone spero perché questa però con le vibrazioni con le vibrazioni questo martedì 31 gennaio sono le 8 21 ma di cosa ci parli ecco allora parliamo delle domande del signor amazon per assumere i dipendenti per fare i pacchi ecco sì un ex dipendente di amazon ha rivelato quali sono state queste domande che le ha posto jeff bezos direttamente l'ha assunta lui chiaramente in italia c'è lui vabbè prima di insomma di arrivare davanti a lui i colloqui se ne devono fare diversi però poi si arriva a quanto pare anche davanti a lui almeno a questo qua è successo questo comunque questo qui è uno degli uomini di maggior successo al mondo eh teniamo conto di questo sono tante poi le persone che vogliono lavorare con lui piace il cartone ma a quanto pare un colloquio con il signor amazon sembra essere molto sbrigativo di guardare i cartoni animati da piccolo no ma veramente se fossero queste le domande che fa di sicuro non sarebbe arrivato il nastro da pacchi comunque una volta questo signore bezos ha intervistato un potenziale dipendente di amazon ponendole pensate solamente due domande solo due la prima domanda è vivo certo e con noi la prima domanda è stata indicativamente quante lastre di vetro ci sono nella città di siattol cioè renditi conto che domanda è ecco che domanda è tagliato ma che ne so comunque sta di fatto sta di fatto che questo questa persona sia riuscito a dare una risposta e va quanto pare ma è perché non lo so comunque la seconda domanda è quali sono i tuoi obiettivi di carriera e questa ha più senso durante un colloquio cioè questa è boh però sinceramente le lastre di siatto vabbè comunque evidentemente le due risposte lo hanno soddisfatto perché questa ragazza è stata assunta era una ragazza sì è stata assunta e va bene è andata bene però fa specie no pensare che il signor amazon chiamiamolo così in persona certo così finisca faccia l'ultimo colloquio prima di assumere in alcuni casi e non lo fa sempre ovviamente penso sia un filino impegnato infatti e poi che domande fa cioè ragazzi io l'ultima volta che ho visto elodie gli ho chiesto quante tegole ci sono pensavo peggio quando sei partito con te dicevo buh cosa è quante tegole ci sono sui tetti di cuneo certo come il gioco dei fagioli te lo ricordo quello della carriera che bei due polmoni come respira bene due bei polmoni bene allora parliamo di si parliamo di difetti no perché il 50% degli adulti ha interrotto una relazione a causa di un difetto no e non piacciono ad esempio cattivo odore o comportamenti scortesi ma queste non sono bravissimo non sono cose da poco questi non sono proprio difettucci c'è anche il cattivo odore ragazzi voglio dire comunque e tant'è che il cattivo odore è il motivo principale però guai a essere anche troppo appiccicosi e poco curati sono cose che proprio non si sopportano in coppia per cui dopo un po' la coppia scoppia fra i difetti contemplati no in questa sorta si in questa sorta di sondaggio emergono anche i denti brutti e le unghie lunghe o sporche allora per tutto quello che è legato alla scarsa igiene io condivido pienamente veramente sono cose che ecco anche i denti eh ragazzi anche i denti sono importanti comunque il 15% ha chiuso con un potenziale partner ma speriamo di più ha chiuso con un potenziale partner a causa della sua maleducazione o prepotenza e questo ha fatto bene ecco mentre sempre il 15% lo stesso numero è stato scoraggiato da qualcuno che fingeva di essere più informato di quanto non fosse in realtà su qualcosa ecco sai quelli che sanno tutto loro anche quelli proprio veramente non io almeno io non li reggo non riesci a parlare perché sanno tutto esatto fra le altre cose che non piacciono nelle relazioni c'è chi applaude quando un aereo atterra ecco questa è una stronzata non è che puoi lasciare uno perché ho una andiamo in ferie qui mi scappa un applauso e te molla l'aereo potto ma dai ma non si fa no mai sentito anche masticare con la bocca aperta non è bello no quello dà proprio fastidio sono di fastidio è vero però è un fastidio penso che la puoi risolvere gli dice amore chiudi la bocca apri la bene no vabbè attenzione poi a chi vive le dita del naso va che schifo vabbè però qua non lo dice a chi vive ancora con i genitori è quello un problemino è un problemino quello potrebbe essere motivo di mandare a stand vabbè pensate che non le ho ancora neanche dette tutte mi fermo qui ma ce ne sarebbero altri di difetti che non piacciono ce ne dici dopo tanti legati all'abbigliamento tanti sono legati all'abbigliamento i jeans sgualciti non piacciono ma insomma ma c'è la gente che veramente si molla proprio per niente parliamo prima discutiamo altrimenti andiamo in crisi ma piuttosto ti compro un paio per questo ecco per questo martedì crisi di stato benissimo dirittura grazie cosa ho che è di diverso le cuffie messe su devi mixare così eh vabbè fa molto dj vero ecco qua dobbiamo salutare questo questo mese il gennaio si salutiamo gennaio ciao gennaio ci vediamo domani che febbraio arrivederci arrivederci aspettiamo febbraio benissimo non credo possa essere peggio no vabbè ottimismo ragazzi ottimismo ci vuole andiamo al mercato e abbiamo il mercato mi sono i calzini dai mi offri un calzino come no ti offro un calzino a domani a domani un bacio ciao ciao ciao